Sì, alla notizia che lo Stato vorrebbe denunciare questi sindaci mi ha dato il sangue alla testa. Io spero che sia solo un'ipotesi giornalistica perché se così fosse sarebbe un atto gravissimo di uno Stato che per l'incapacità che ha di gestire questa emergenza che ormai va avanti da vent'anni, scarica le proprie colpe e le proprie incapacità su sindaci inermi che non sono in grado di gestire quello che il Governo dovrebbe fare. Sarebbe un atto di guerra contro amministratori locali.